Icona dello sport italiano e mondiale che è animato da un forte amor di patria, ha saputo trarre insegnamento dalle molte difficoltà della vita e ha dimostrato che con la passione e la tenacia i sogni diventano realtà. Una persona splendida. Questa è la motivazione che ha spinto la SDOE, di cui Antonio Riccardi è presidente, a consegnare il premio dell'Associazione per l'edizione 2013 all'ex pugile Nino Benvenuti. Campione olimpico nel 1960 e campione mondiale dei pesi medi tra il 67 e il 1970, vincitore del premio Fighter of the Year per due volte, Nino Benvenuti è considerato tra i più grandi pugili di ogni tempo. Ma come per ogni gigante, anche Nino Benvenuti ha il suo lato tenero da mostrare. Posati i guantoni, Benvenuti si scopre scrittore e narra della storia che conosce meglio la sua vita. Nell'isola che non c'è, c'è una storia che mi riguarda personalmente, che l'ho vissuta in epoca, in età che allora tutto poteva accadere, tutto poteva succedere e che era più sofferente dopo che nel tempo stesso, perché da giovane riesci a superare le difficoltà con molta più fantasia, con molta più leggerezza. Nel tempo poi ti rendi conto che è stata dura. Però lo sport l'ha aiutata? Molto. Cioè, quello ha aiutato lo sport. Lo sport è venuto di conseguenza, perché quando mi sono apprezzato a fare una disciplina così difficile, così dura, così pesante, tutto era molto più semplice, più facile per me che per altri, che avevo superato momenti molto più difficili di loro. e che tutto quello che accadeva era olio sull'acqua.